Spring Attitude si appresta a tornare, forte di un blasone conquistato progressivamente. L'edizione dello scorso anno fu un vero e proprio successo, come testimoniato dalle oltre 12.000 presenze. Questa volta si vuole fare ancora meglio e grazie ad un programma allettante i presupposti per un trionfo ci sono tutti. Speriamo di aumentare le presenze, di passare da 12.000 a 15.000, 16.000, questo è l'augurio. Dal 19 al 21 maggio il pubblico avrà l'imbarazzo della scelta. Al Maxia Spazio 900 e all'ex caserma Guidoreni si alterneranno DJ set, concerti e workshop, vera novità di una settima edizione ormai ai nastri di partenza. Siamo riusciti anche ad avviare questa sezione educazione in collaborazione con la Rome University of Finance, che ci ha dato la possibilità di organizzare tre workshop, due per adulti, dunque studenti e addetti ai lavori, e uno ai più piccoli, quelli per adulti saranno a cura dell'artista John Duncan, titolato Red Sky, quello sempre per adulti a cura di Otolab, verte sulla luce, titolato Suonare la luce, e poi la grande novità è anche il workshop per bambini, bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Per quanto riguarda i nomi, sono da segnalare le presenze dei francesi Air, di Gold Panda, John Duncan, Matthew Herbert, ma guai a sottovalutare Clap Clap e Io sono un cane, artista capace di stupire la critica nostrana, grazie al suo ultimo disco, intitolato Die. Ci sono delle sperimentazioni, anch'esse di artisti italiani di grande talento, Giorgio Gigli, che presenterà in anteprima un live audio-video, ci sarà not waving, ci sarà bien noise, insomma tante cose e soprattutto di qualità.